Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. È stata Laura Pausini a pubblicare su Instagram il video della romantica proposta di matrimonio fatta al compagno Paolo Carta. Un momento diverso da solito perché è stata la cantautrice a inginocchiarsi e mostrare la scatolina che conteneva l'anello che l'avrebbe aiutata a chiedere al compagno di sposarla. Stravolgendo il tradizionale copione che vuole sia l'uomo a chiedere in sposa la propria compagna, Laura ha sorpreso il futuro marito con una romantica dichiarazione. Vuoi sposarmi? La si sente dire nel filmato caricato sui social. Una scelta che la cantante ha spiegato con una didascalia pubblicata insieme al breve filmato. Laura ha spiegato di avere ricevuto la prima proposta di matrimonio dal compagno dieci anni fa. Avevano rimandato le nozze perché, proprio in quel periodo, la cantante era rimasta incinta della figlia Paola. Undici anni fa Paolo mi ha chiesto di sposarlo facendomi una sorpresa. Poco dopo sono rimasta incinta e abbiamo deciso che ci saremmo sposati quando nostra figlia sarebbe diventata grande e avrebbe potuto portarci gli anelli. Però, due anni fa durante il lockdown, ho fatto io una sorpresa a lui. Nel giardino di casa mia in Romagna. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.